Un bilancio fantasma fino a stamattina in Regione che poi è venuto fuori poco prima dell'orario stabilito per l'inizio della commissione consigliare, cioè le 10, con consiglieri alle prese con stampanti e fogli e tutto slittato di un poco, come orario quindi. Stamattina da calendario c'è stata la seduta d'inizio con le audizioni, ma come si può pensare di iniziare in questa maniera, tuonano le opposizioni. Il bilancio andrebbe approvato entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio, maratone che sono sempre lunghe e polemiche. Con il regolamento cambiato è possibile però ottenere il parere con la discussione in corso e non prima, dunque l'auspicio è approvare nei tempi. Una commissione bilancio senza il bilancio, abbiamo carta bianca, sono arrivati poc'anzi i documenti, non è stata data la possibilità a nessuno di poterlo leggere, di poter capire cosa c'è all'interno, addirittura questa mattina da calendario che è stato concordato all'interno dell'HP Gruppo si doveva iniziare con le audizioni, io non so chi potremmo dire, anche perché i portatori di interesse non avendo letto il bilancio così come abbiamo letto noi, non so che quali osservazioni potranno dare o quali contributi a quella che è l'Abruzzo e quella che è la Regione Abruzzo. Purtroppo registriamo ancora una volta una confusione notevole, evidente da parte della maggioranza, l'unica preoccupazione che io ho come membro dell'opposizione naturalmente è quello di discutere delle poste in bilancio e di quella che sarà la visione per quanto siamo a fine legislatura, però parliamo del destino degli abruzzesi. Sappiamo che le difficoltà sono tante, sappiamo che le risorse da allocare sono anche tante e importanti, abbiamo anche la discussione sugli FSC che praticamente è apparsa un attimo nella vita consigliare e poi scomparsa ed è uno strumento fondamentale per immaginare il futuro della nostra Regione. Quindi ci auguriamo che questo tremendo ritardo e questa confusione che è andata in onda negli ultimi giorni si possa recuperare a tutto questo in maniera intelligente attivando un confronto serio perché a rimetterci sarebbero gli abruzzesi. Per il Presidente della Commissione Fabrizio Montepara le imminenti elezioni regionali condizionano anche il bilancio ma comunque per la maggioranza ci sono dei punti fermi, le risorse saranno tante, ci saranno settori particolari che saranno attenzionati. Sicuramente io insieme al mio gruppo si batterà fino alla fine per rifinanziare tutta una serie di leggi che vanno a favore dei cittadini, penso alle parrucche, per i malati oncologici, per lo psicologo scolastico, alle botteghe scuola, ecco a tutte queste leggi che sono veramente a favore dei nostri concittadini dell'Abruzzo e poi ecco c'è l'altro problema della Peronospora che ha colpito soprattutto nella provincia di Terramo, Chieti e Pescara, Chieti soprattutto, che sta mettendo in ginocchio tutta l'agricoltura abruzzese. Quindi anche su quello ci sarà una grande attenzione e io già da adesso annuncio che sarà il mio dovere e il mio impegno e portare le più risorse possibile su questo settore.